Garantire la sicurezza dei consumatori tra le priorità della Guardia di Finanza di Salerno che nell'ambito di un'apposita attività di verifica e controllo posta in essere sull'intero territorio provinciale ha individuato nell'area cilentana un esercizio commerciale in cui erano presenti e disposti per la vendita migliaia di prodotti le cui caratteristiche non rispondevano alle norme del codice del commercio. Nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto anche delle frodi al commercio dunque i finanzieri di Vallo della Lucania a seguito di una peculiare attività di monitoraggio volta all'identificazione degli esercizi commerciali dediti alla vendita di prodotti in violazione alla normativa in materia di sicurezza degli stessi hanno effettuato un controllo all'interno di un grande magazzino dell'entroterra cilentano rinvenendo sui vari scaffali merci per la casa per l'ufficio materiale per il bricolage bigiotteria accessori donne e articoli vari dal regalo liberamente esposti e detenuti per la vendita e che a seguito di un attento esame sono risultati non rispondenti ed ettami previsti dal codice del consumo poiché sprovvisti delle informazioni identificative minime quali ad esempio i dati relativi al produttore o importatore, il paese di origine, la natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione, le istruzioni e le relative precauzioni per l'utilizzo che per legge devono essere presenti sulle confezioni o sulle rispettive etichette in modo visibile, leggibile ed in lingua italiana. Infatti tali diciture garantiscono al cliente finale la consapevolezza della qualità del bene che sta acquistando e soprattutto il suo utilizzo in piena sicurezza. Le fiamme gialle vallesi accertate le difformità hanno dunque effettuato il sequestro amministrativo di oltre 10.000 pezzi irregolari tra fermacapelli, collane, bracciali, orecchini, pietre ornamentali, adesivi e prodotti per il fai-da-te. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato segnalato alla competente Camera di Commercio e rischia ora una sanzione prevista che va da un minimo di 516 ad un massimo di 25.000 euro. Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, fanno sapere dalla Guardia di Finanza di Salerno, significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo dove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.